Salve e bentornetti per il terzo episodio di VGC15 su Mr. Zeffo Giri Sì ci ho messo tanto perché tra l'università impegni la vita e quelle cose lì insomma mi hanno un po' rallentato Ecco, diciamo questo. Poi altro annuncio da fare sarà l'ultimo episodio purtroppo di VGC15 perché hanno appena annunciato il nuovo formato Na merda secondo me. Ne parlerò o ne parleremo in un altro video e chiaramente se ci sarà tempo, se avrò la voglia di stare lì a guardare sto formato di merda Farò altri video Visto che tanto ormai questo formato se ne va a cagare Il prossimo video penso sarà sul team attuale che state vedendo Con le modifiche che gli ho fatto Perché è il team che finora mi ha dato più soddisfazioni E dovrà avere un ratio positivo di circa 20 vittorie sopra le sconfitte se non mi ricordo quanto Comunque cominciamo con l'ultimo video Come potete subito vedere si tratta di un team modello del vecchio formato e la lead non è che proprio me l'aspettassi in questo modo Io avrei predictato subito Milotic e invece parte di Salamence e Piltran Forse lui aveva predictato il mio Charizard E che lo aveva il vesti nell'Y Purtroppo per lui Con Intimidate Charizard è un po' una merda quindi ho deciso di cambiarlo E mando Swampert anche perché è positivo contro tutti e due E predicto anche Protect di Salamence Ma avrei predictato qualcos'altro su Itran come per esempio Earth Power O qualsiasi altra cosa per tirare via il palloncino Raichu E lui pensò avesse predictato Fake Out quindi protegge entrambi Io predicto Gran Voce a caso E quindi spammo Bodyguard E infatti Tac Con Raichu chiaramente vado all'attacco con Introforza su Salamence Anche se sapevo che non gli avrei fatto tutto questo male E invece Boom L'altro stupido ci casca con Geoforza Al turno dopo Capisce che ho il palloncino E lo fa scoppiare con sdoppiatore e si suicida Salamence Best suicidio ever E mi son tolto la Top Threat Io comunque non immaginandomi che si sarebbe suicidato così Ho continuato con Introforza su Salamence che va su Itran Mentre lui usa Onda Calda e Raichu ci saluta E mi sarebbe servito anche contro Milotic E però tanto con Swampert tolgo Itran o meglio Lo indebolisco perché ho beccato quello con la bacca E lo lascio con pochissima vita Mortacci sua Ed ecco che arriva Milotic Il mio vero problema in realtà Ehm Mando il Charizard comunque Perché tanto Mega Evolvendolo mi sarei tolto il problema della debolezza Eeeh E nulla Ehm Predittando subito Protect di Itran Decido di fare danzare Charizard In modo che avrei potuto distruggergli il team E mentre Milotic va del rito proprio di Ehm Ehm Idrovampata Mi dimentico sempre il nome italiano Incredibile Però non mi fa nulla E non avrei avuto comunque problemi per La bruciatura Visto che Essendo fuoco Non si dovrebbe bruciare Normalmente Turno dopo vado subito con Dragartigli su Milotic Pensando di toglierglielo eh Però resiste bene Ehm Itran Usaggio forza su Swampert Anche se me lo sarei aspettato su Charizard E poi Milotic Idrovampata su Swampert Che mi va giù Mando Lucario In questo team non avevo ancora Virision Ehm Poi ho aggiunto e mi ha tirato via tutti i Milotic Che erano il mio vero problema Ehm Tolgo Milotic con Dragartigli Brutto colpo inutile come al solito E Lucario spamma Frana e toglie Itran E in poche parole ho vinto Non serve Stare qui a menarsela Gli rimane solamente Sylveon Che a cose normali mi avrebbe dato abbastanza fastidio Ma Ho un Charizard con Più uno in attacco Quindi fuoco carica ignorantissimo E lo toggo via Anche perchè L'avevo già indebolito con Lucario Un pugno scarica Ehm Quindi Allora Come avete visto E come vi ho detto Questo qui E' stato l'ultimo episodio Di questa Mini serie Ma veramente Corta Perchè non mi aspettavo Che cambiassero le regole A questo livello E quindi mi toccherà Cambiare completamente La mia strategia Perchè prevedo già Rayquaza Growdon e Kyogre Spammati ovunque Per finire direi Aaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Grazie a tutti.